ciao a tutti bentornati sul mio canale il 29 di settembre ormai perché sono tipo le 4 di notte sono uscito fuori a fumare al cicchino mi sono messo il giubbotto perché fuori è un freddo della madonna almeno qui perché siamo in un posto molto umido chiaramente non sono città siamo in una località parecchio parecchio umida quindi il fresco si senta con l'umidità più che altro si sente molto bene comunque tornando al discorso questo brevissimo video di 3 4 minuti al massimo non oltre 4 minuti perché voglio andare a dormire è dedicato al cane bestia bello esagerato di pitbull che abbiamo raccattato trovato stanotte per la strada salvato mi sono fermato al camper praticamente di traverso bloccato una orzia in mezzo abbondante per salvare per salvare la vita a questo amore peloso e nessuno qualche macchina c'era ma non si stava fermando nessuno perché vedono pitbull oddio il pitbull oddio la morte ma cosa sono le razze di cani più buone e tranquille i cani sono tutti tranquilli basta saperli educare nei pitbull è feroce il barboncino è tranquillo non vuol di nulla e se il barboncino lo abitua essere una bestia è una bestia anche il barboncino se il pitbull come quello lì ad esempio lo abitua essere il cane più dolce del mondo è il cane più dolce del mondo non perché la razza e pitbull è feroce il ciovava è tranquillo i bigol è buono non c'entra nulla ma come tu lo abiti un cane e come lo tratti soprattutto comunque tornando al discorso il cane non è in canile perché avevo come ha detto nel video precedente avevo chiamato un canile che però non era in quel comune lì e mi disse e mi ha detto questa donna nel comune di lucca mi ha detto no guarda devi chiamare il comune dove l'hai trovato perché noi non possiamo venire a pigliare fuori dal comune altrimenti ci sarebbe lo spostamento insomma un mucchio di burocrazia sicché niente io ho chiamato i canili del comune dove sono dove sono dove eravamo prima e però telefoni cellulari spenti e poi sul sito aprano tutto all'otto di mattina quindi non savo che fare tutto che fa io posso anche tenere fino a domani tanto non dormo la notte dormo poissimo sta sveglio una notte o un giorno e mezzo non mi cambia niente e non l'ho tenuto perché non sapevo che se dormiva se se stagitava io non è che ho paura dei cani se avevo paura non mi fermava da dritto ma non so ho detto boh avrà bisogno di qualcosa qualsiasi cosa non lo so se tenerlo o no se tenerlo alla notte io poi c'è alle brutte lo tenevo è una notte lo tengo non è un problema è che non sapevo cosa aveva bisogno di al cosa se due a che le so ma scelta ad esempio per le pasticchine per la lesmania non so sono la sega scusa scusate la sega ma e quindi non da insomma per farvela breve abbiamo chiamato più volte un numero che aveva il cane con sé diciamo attaccato al collare non quello grosso che si vede ma c'è un altro scritto detto il gps chiama 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 però eravamo in un punto dove non c'è linea c'è praticamente non c'è quasi per niente linea sì che io provai a chiamare anche mio amico franco a provare a chiamare diverse volte poi c'è stato un attimo in cui il mio telefono ha fatto tipo non neanche mezzo ha fatto tipo un quarto di squillo e poi mandare giù la linea perché ripeto in quel punto dove eravamo e non c'è campo poi dopo circa una quarantina di minuti boni che questo cane era con noi sul camper infatti a fine video quello precedente a fine video si sente proprio che sono al telefono a franco gli risponde sta signora lui e lui fa ma lei è proprietaria di un cane pitbull sì 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 insomma un po' le parole poi il video si conclude proprio nel mentre stava chiamando sta donna e poi niente bene appigliarselo il marito con la macchina ci ha ringraziato non so i quattelingue a momenti ci fa la mecca fra un pochino e niente gli ho detto va comunque ti hanno legato cioè faccia attenzione come ha fatto a uscire no non è che non faccia attenzione è nel cancello tutto recintato un giardino solo che siccome quella zona c'è caprioli taini cignali quanti tu ne vuoi istrici volpi lupi ci sono anche quelli ma le trovi più che altro oddio insomma l'indo stanno loro sì ci passano però insomma speriamo di no insomma poi parole dice ha visto passa un cervo un daino e ha preso la rincorsa gli ha fatto un salto della madonna gli ha scavalca il cancello e il cane corre e piglialo gli sta visti il daino gli andavo dietro e il daino è scappato chiaramente però questo cane si trovava spazzato io quando ci siamo fermati è detto cosa cosa c'è cosa non c'è bada che c'è c'è un cane fermo dio buono camp di traverso quasi ripeto bloccato una corsia e anche anche qualcosa in più e però niente caricato salvato coccolato affettuosissimo si può vedere dal video baci o sotto un tento scudinzolava c'è come se ci conoscesse da sempre quindi la la favola dei pitbull che sono ma non perché questo era tranquillo ma io non conoscivo i tanti di pitbull mai visti e conosciuti che però come le vedo mi ci mettono tenere a giocare e ti sanno parlare a tutti contenti li slinguazzai scudinzolati non esiste il cane attivo esiste la persona attiva non il cane o l'animale in generale è come uno l'abitua agli animali come le tira su come le tratta e niente comunque questo video è soltanto per far sapere che il cane di sei anni infatti ho detto quanto c'ha c'ha sei anni comunque questo video è per far sapere agli amati e gli animali o anche a chi mi segue in generale che il pitbull è felicemente a casina sua no non in canile anche ci sarebbe stata una notte sì e no comunque anche perché c'è il gps che lo vedevamo ha detto il proprietario ma io lo vedevo che prima gli era lì dopo cinque minuti gli era dalla parte di là che c'è tre chilometri sì un cane a 70 all'ora gli ho detto gli è un po' difficile vederlo magari non ti è passato per la testa e magari qualcuno l'abbia preso e caricato macchina non è portato in fondo perché un cane a 70 all'ora la vedo un po' dura infatti aveva il costo gps quindi se se non se lo veniva a riprendere stasera lo veniva a pigliare domani in canile quando lo vedeva non dov'era ma a parte questo niente il cane è sano e salvo è a casina sua bacia è tutto contento quando ci trovavo tutto tranquillo beato niente questo video soltanto per far sapere questa cosa che il cane è felicemente a casa tua sano e salvo ora io andrei anche a letto perché per salvare il cane mi sono preso anche un po di mal di gola ma il mal di gola me ne frega nulla l'importante è che il cane stia bene mal di gola passa porto un corno vabbè a parte questo buonanotte a tutti ciao però non sono stato di parola avevo come ha detto 3 4 minuti sono già a 7 minuti e 29 secondi buonanotte ciao